carissimi amici del canale youtube dentro la notizia immaginate di essere a cena davos in svizzera giovedì 23 gennaio al vostro tavolo siede george soros che parla ruota libera delle faccende del mondo che gli stanno a cuore immaginate anche di aver assistito al suo discorso tradizionale al world economic forum ebbene in questo video riporterò alcuni stralci sia delle conversazioni di soros che del suo discorso ma per i più curiosi di conoscere le sorti del mondo secondo il portavoce dell'elite globaliste ho in serbo una prossima sorpresa rimanete sintonizzati su questo canale come sapete george soros è da alcuni decenni sempre interessatissimo ai destini della politica italiana ed è anche lui schierato al fianco delle sardine al punto che non mi sorprenderebbe che dietro i tanti mezzi finanziari dei pesciolini ci sia proprio lui come supposi alcune settimane fa in un video e il finanziere ha affermato ci sono più sardine che squali come salvini e dunque le sardine prevarranno il fondatore della open society ha poi aggiunto di essere arrivato a questa conclusione quando ho saputo di un movimento spontaneo di giovani che si sono ribellati ai comizi di salvini tenevano in segna forma di sardine con il motto sardine contro salvini ora soros scende direttamente in campagna elettorale e attacca pesantemente il leghista definendolo un potenziale dittatore italiano e ancora questo mi porta a concludere che oggi i giovani possono aver trovato un modo di confrontarsi con la dittatura nazionalista infine il cosiddetto filantropo ungherese scade un po nel ridicolo affermando che le sardine sono la variante italiana di una rivolta globale che ha visto l'apice a hong kong ma scusate nessuno ha avvisato soros che in italia al governo non c'è salvini ma il parente stretto delle sardine il pd con le sue propaggini non è tardata ad arrivare la risposta di matteo salvini giù la maschera il finanziere soros tifa per i pesciolini e pensa che salvini sia un potenziale dittatore avete capito da che parte stanno commenta così invece giorgia meloni soros sta con le sardine mancava solo lui lo sforzo del mainstream e dei poteri finanziari per difendere l'ultima roccaforte rossa è impressionante se vinceremo anche in emilia romagna manderemo a casa questo governo e la sinistra mondialista italiana e che dire di quanto ho affermato da stefania craxi la figlia di bettino ci tiene a precisare chi sia lo squalo da davos arriva l'endosment al movimento nato a bologna in piazza grande le sardine sono più degli squali e sono destinate a vincere c'è da crederci specie sedetto da uno squalo che di sardine anche nostrane ne ha mangiate davvero tante ficcante come il padre buon sangue non mente durante il suo discorso annuale e la cena tenuti al world economic forum di davos il finanziario americano di origine ungherese si è scagliato contro tutti coloro che non si sono sottomessi alla sua egemonia mondiale ecco cosa ha detto parlando di quelli che lui definisce i nuovi dittatori mondiali i poteri più forti di usa cina e russia restano nelle mani di veri o aspiranti dittatori e nello specifico riguardo a trump ha usato parole durissime quando la fantasia di trump di diventare presidente divenne realtà il suo narcisismo sviluppò una dimensione patologica anzi ha trasgredito i limiti imposti dalla presidenza e dalla costituzione allo stesso tempo è riuscito a raccogliere un gran numero di follower che hanno acquistato la sua realtà alternativa e addirittura ha definito trump un imbroglione che vuole che il mondo ruoti intorno a lui a carico di trump c'è anche l'accusa di aver surriscaldato un'economia già in fase vigorosa che ha spinto la borsa a nuovi record ma un'economia surriscaldata non può bollire troppo a lungo ha detto soros dissimulando preoccupazione per i poveri risparmiatori o per se stesso se le elezioni fossero vicine tutto questo avrebbe assicurato la rielezione il problema è che mancano 11 mesi ha concluso il finanziere passando all'attacco del presidente cinese affermando che xi jinping che ha vissuto un'esperienza traumatica nella sua prima giovinezza suo padre era stato uno dei fondatori del partito comunista cinese fu espulso e suo figlio crebbe in esilio rurale da quel momento l'obiettivo della leadership di xi è diventato quello di riaffermare il dominio del partito comunista sulla vita cinese soros oltre che un profondo conoscitore dei mercati nel senso spregiativo del termine è anche un profondo conoscitore dell'anima umano inoltre ha detto che xi jinping è diventato un dittatore non appena ottenuto la forza sufficiente per esserlo ha usato l'intelligenza artificiale per ottenere il controllo totale sul suo miliardo e 300 milioni di cittadini e sfruttare le debolezze di trump il presidente usa secondo soros sta inconsapevolmente aumentando le ammenzioni del presidente cinese perché è disposto a fare qualsiasi cosa per interesse personale come mettere huawei sul tavolo della contrattazione soros ha aggiunto anche che se la cina è l'unica questione bipartisan è la casa bianca di trump che ha prodotto la più grande minaccia a quel bipartitismo con la capacità di trump di violarlo impunemente e ce n'è anche per il presidente indiano narendra modi soros dice che sta creando uno stato indù nazionalista imponendo misure punitive in cashmere e accusa anche il presidente brasiliano bolsonaro che dice non ha fermato la distruzione delle foreste amazzoniche per fare in modo che gli allevatori potessero farci pascolare le mandrie ma a davos soros ha annunciato un nuovo ambizioso piano che ha definito il più importante della sua vita e per cui donerà un miliardo di dollari un network di università impegnate nel pensiero critico che si occupino di cambiamento climatico e della difesa della democrazia dai dittatori soros elargisce soldi a raffica come se non fossero suoi come se fossero frutto di una stampante laser la stampante di chi a tempo debito mattezzato open society university network il progetto metterà in rete una serie di atenei e sarà un'estensione della sua central european university che è stata fortemente osteggiata dal premier victor orban in ungheria ed è stata costretta a trasferirsi a vienna una scelta culturale che si contrapporrà alla voce di alcuni social network che a detta del magnate appoggiano trump nella sua campagna elettorale come facebook quindi soros affermato che la sopravvivenza delle società aperte è in pericolo e affrontiamo una crisi ancora maggiore i cambiamenti climatici beh allora se soros avverte riguardo ai cambiamenti climatici lascio a voi ogni conclusione ma torniamo a facebook soros ha accusato il social network di aver avuto un ruolo importante nell'elezione del candidato repubblicano nel 2016 ha affermato che potrebbe svolgere lo stesso ruolo quest'anno anche parlato di un tipo di operazione informale di mutua assistenza o di sviluppo di un accordo tra il presidente degli stati uniti e la compagnia facebook lavorerà per rieleggere trump e trump lavorerà per proteggere facebook in modo che questa situazione non possa essere cambiata e mi rende molto preoccupato per il risultato per il 2020 povero giorgi a tutte le preoccupazioni del mondo sulle sue spalle ad ogni modo soros che non ha fornito alcuna prova a sostegno delle sue affermazioni neanche informalmente durante la sua cena davos si è già scagliato nel passato contro la piattaforma dei social media pensate che l'anno scorso ha paragonato l'azienda ad una società di gioco d'azzardo che alimenta la dipendenza tra gli utenti e si preoccupa solo dei profitti e ha elogiato il commissario antitrust dell'unione europea margaret vestager la sua amica membro del suo ecfr per aver perseguito i colossi di internet tra i quali facebook in seguito agli attacchi di soros contro facebook a davos nel 2018 la numero due dell'azienda sheryl sandberg ha chiesto al suo team di raccogliere informazioni sugli interessi finanziari del miliardario beh non c'è che dire una pista interessante che terremo sotto il faro quest'anno soros non ha mancato di attaccare proprio nessuno dei suoi oppositori e la lista è lunga guarda caso tutti coloro che l'accusano di destabilizzare i paesi con l'immigrazione di massa si è scagliato ovviamente anche contro il primo ministro ungherese victor orban affermando che rappresenta l'esempio perfetto di dittatori che non sanno quando smettere di essere repressivi torniamo alle proteste di hong kong definite da soros la ribellione di maggior successo aggiungendo che hanno offerto una lezione per i movimenti sociali altrove non ha una leadership visibilmente identificabile e tuttavia ha il sostegno schiacciante della popolazione un avvertimento tuttavia è che le proteste di hong kong possono avere un grande costo e distruggere la prosperità economica della città ha aggiunto carissimi amici del canale youtube dentro la notizia soros sta con le sardine finanzia più europa e se potesse domani voterebbe il pd di bonaccini contro il suo grande avversario salvini in emilia nella veste della borgonzoni voi da che parte state dalla parte di soros dalla parte dell'elite o dalla parte del popolo vi ricordo che questo canale si sostiene solo grazie alle vostre donazioni e se vi interessa conoscere il piano di soros per il mondo intero potrei dedicare un video con le sue scottanti rivelazioni un abbraccio dal vostro roby